24 giugno 2011, partendo da Alpe Fimè, 1600 metri, siamo arrivati qui alla Cimavallone, ecco qua Giovanni, qui alla Cimavallone 2135, il tempo impiegato è di un'ora, un'ora, l'altezza è 2135, praticamente 535 metri, un po' meno di un'ora, ecco qui che si sta arrivando la nebbia, lì c'è la cima Cavalcurt, là c'è la cima Bonze, sarà una giornata un po' triste con questa nebbia, adesso Giovanni mi riprende un attimo qua, Cimavallone 2115 da Alpe Fimè, 25 giugno 2011, arrivederci, a dopo. Continua la trasmissione, siamo alla bocchetta Valbona 2328, ecco Giovanni che sta arrivando anche le nuvole, qui si sta chiudendo tutto, e lì c'è la cima Bonze, cima Bonze, ecco la cima Bonze, noi scenderemo poi al Colle Bonze e ritorneremo sulle nostre tracce, la cima Bonze è 2516, vediamo adesso se troveremo una traccia e saliremo, ecco Giovanni, comunque qui è il Colle, siamo sul Colle Valbona 2328, lì dietro c'è la Cavalcurt, là in fondo, abbiamo passato la cima Bonze, e adesso faremo la cima Bonze, ecco qua, facciamo un po' di sosta, poi riprenderemo le nuvole che si stanno adessando, vediamo di andarci il più presto possibile, ecco qua, ecco Giovanni, prendiamo un po' di fiato, poi andremo su di lì, Colle Valbona 2328, siamo circa due ore, dal Alc su là, facendo il gire della cima Bonze, ci sentiremo dopo, continuo la trasmissione, 20, quanti ne abbiamo oggi? 24 giugno 2011, dopo aver fatto là dove c'è la nebbia, la cima Vallone, tutta quella cresta, abbiamo raggiunto il Colle Valbona, e in cresta siamo saliti su questa cima, cima Bonze, ecco qua la cima Bonze, Giovanni lo metto della cima, e sullo sfondo vediamo il Cervino, tutta la catena del Monte Rosa, dal Brighton, Brighton Centrale, Roccenere, Pollice, Castori, Liscan, La Dufour, eccetera, la giornata di Val d'Avosta è bella, qui si stanno formando le prime visaglie di nuvole, comunque queste zone non si tradiscono mai nel brutto tempo, oggi era una gitta di ripiego, e anche sulle montagne biellesi, vedete là il Mont Barone, che stanno arrivando le immense nuvole, il Monte Mars, comunque vediamo qui, ecco lì davanti a noi vediamo la cima Battaglia, e sullo sfondo dopo tutta la cresta, vedete il Bec Renaud, eccolo là, il Bec Renaud, naturalmente, che c'è da dire? va di questo nello sfondo, siamo arrivati qui, partendo da Alpe Fimè, Cima Vallone, Cresta, e abbiamo fatto quasi alla Cima Cabalcorpo, tagliando, abbiamo raggiunto il Colle Valbona e la Cima Monge, il tutto in due ore e venti, ecco qua la Cima, Bonze, e come dire, adesso Giovanni mi fa una piccola ripresa, di qua c'è la cresta effettuata, di lì arriva il brutto tempo, papà mia, 24 giugno 2011, Cima Bonze, 2518, 2 ore e venti da Alpe Fimè, facendo la Cima Vallone e tutta la Cresta, e tutta la Cresta, mangiano a rivederci, a dopo, continuo la trasmissione, ecco la Cima Battaglia, lì vediamo il corno Battaglia, il Bec Renone, qui ce lo metto nella Cima Battaglia, già disfatto, veramente la Cima è lì sopra, e cosa dire, dopo aver fatto la Cima Vallone, aver sfiorato la Cima Cavalcurt, abbiamo praticamente risalito tutta la Cima Bonze, e che dire, abbiamo praticamente fatto un bel anello con le nuvole calcagne, ecco vi faccio un ultimo panorama del Monte Rosa, ecco lì, il corno Battaglia.